TikTok è pieno di video che dimostrano che la terra è piatta Lei potrebbe dimostrare il contrario? Certo Come? Scientificamente Perché Galileo Galilei quando uscì dal tribunale disse eppur si muove Crediamo alla scienza Il mondo va a rotoli, non lo so io Allora se va a rotoli è tonda No, 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 non lo so Su TikTok tantissimi video dimostrano che la terra è piatta Chi può dimostrare il contrario? Chi può dimostrare il contrario? Lei può dimostrare il contrario? No, non so nessuno per dirlo Chi dice la terra gira? Vita, terra gira, ma chi dice? Mettiamo un punto, un minuto Allora, se io scendo da casa nel stesso momento che finisci a mangiare Scendo per me è io che giro la terra che sta ferma Quando scendo a Palermo invece è al contrario E la triste che mi gira è la terra che sta ferma Perché lei è a Palermo Che fa? Che lo dico allora Cioè è così tu come mi attichi TikTok è pieno di video che dimostrano che la terra è piatta Lei potrebbe dimostrare il contrario? Ma io non ci sono su TikTok, non lo posso dimostrare È semplice Io non ci sono Quindi giustamente se lei non è su TikTok non può dire che la terra è tonda Esatto Non lo posso sapere Perché? Perché non ci sono ticotocchi E la mia casa è Piazza Grande